Eccoci qua ragazzi con il lavaggio del concentrato oggi voglio fare un altro esperimento sto facendo un altro esperimento sulla Prospector questa bellissima canalina in silicone azzurro e adesso vi farò vedere l'albero di Natale per i critici che non sanno adoperare le canaline che hanno bisogno della loro pendenza e del loro flusso d'acqua la Prospector insieme alla Raptor adesso voglio vedere se la Prospector perde se perde qualche cosa con questo loro fine del concentrato del tecino vuol dire che non funziona però in questo momento, per il momento, neanche un puntino sul Raptor quindi adesso andiamo a vedere tutto questo materiale che laverò queste sono le prime due palate, già si vede abbastanza e continuiamo con la pulizia dell'oro del concentrato dell'altro giorno che abbiamo fatto io e Riccardo ecco si accumula lì al centro come vuole sia la V e sparge poi il materiale su tutta la canalina guardate che meraviglia come si muovono questi tappoli e per il momento neanche un puntino d'oro che scappa via da questa canalina continuiamo siamo arrivati a mezzo da basso abbiamo già lavato e andiamo a controllare cosa si è già fermato su tutto il cento righe chiamiamolo così del tappetino e andiamo di là a vedere se è caduto qualche cosa nella prospector dalla prospector e andato a finire sulla Raptor con questi trappoloni ragazzi non credo proprio guardate qua completamente vuota completamente vuota stiamo dimostrando che questa canalina non perde neppure un puntino misero di questo del Ticino che è il polverino il più piccolo che possa esistere in natura questa canalina qua lo raccoglie tutto porto di là a vedere più da vicino è l'inizio dell'alverello che si sta formando l'alverello di natale qui abbiamo anche testimoni eh faccio vedere i calzini ahahahah ahah 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 ahah